Ragazzi ma voi siete pronti per la famiglia Adams 2? Perché dal 28 ottobre la potrete vedere al cinema. Parto facendovi vedere queste scarpe che ho preso fatte così insieme a questi calzini anche e volevo ricordarvi che sia la spedizione che i resi sono completamente gratuiti e che sul sito ci sono più di 1000 brand quindi ci sono un sacco di cose. Poi ho preso anche questa maglietta qui, questa t-shirt di Ralph Lauren e ne ho presa un'altra molto simile blu che vi metto poi nella prossima storia. Questa è fatta così e anche di questa vi lascio il link così se volete vederla potete andare a vederla. Ho preso anche questa qui di Gap che avete già visto, mi piace un sacco e anche di questa vi lascio il link qui così se volete andare a prenderla potete andare a prenderla. Vi ricordo che c'è sempre il 25% di sconto con il mio codice sconto. E per finire ho preso questo zaino qui che potete trovare perché vi lascio il link anche di questo e vi ricordo che con il codice sconto LUSANO25 avrete il 25% di sconto anche su questo e su tantissimi altri prodotti per 48 ore. E per finire ho preso questo zaino qui potete trovare perché vi lascio il mio codice sconto con il mio codice sconto con il mio codice sconto con il mio codice sconto.